Cosa da farvi vedere? Che cos'hai? Un giocato nuovo di zecca. Questa... Attenzione, quando applaudono questi affari fanno apperci che è troppo vicino. Sì, ho già visto i tuoi domnetti. Ottimo, vero? Vediamo cosa abbiamo. Andrà alla grande. Abbiamo fucili a pompa e bombe. Che cavolo ne facciamo? Beh, c'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. È ancora lì, conficcato nel lato della scuola, con la batteria dentro. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Bingo! Volevo prenderla, ma era troppo pericoloso con tutti quegli infetti da quella parte della città. Affanculo, a Joel serve un'auto. E se non funziona? No, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. Bel postecino qui. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. Quello non è il confessionale, è la mia strada. Ok, non tocco niente. E lì, andiamo. Ecco, là la scuola. Ok. Pronti? Lo sapremo presto. Cavolo. Forza, dai, tu non guardarli. Ho visto di peggio. Allora ok. Oltre il cancello è territorio sconosciuto per me. Ci penso io. Silenzio. Oltre il cancello. Oltre il cancello. Oltre il cancello! Oltre il cancello! Oltre il cancello! Guarda, siamo ancora vivi. Ci siamo? Ottimo. Non siamo ancora al sicuro. Merda, è bloccata. Andiamoci senza farlo. Andiamoci senza farlo. Andiamoci senza farlo. Andiamoci senza farlo. Potrei ammazzare con gli stronzi. Sta zitta, zitta. Andiamoci senza farlo. Andiamoci senza farlo. Da questa parte. È bloccata dall'altra parte. Se passassimo di lì... Per la botola del cane. Joel, decidi tu. Molto, molto attenta. Ma certo. Avresti dovuto darle una pistola. Ok, Bill. Dentro alla casa ci sono altri. Merda. Non ci hanno ancora visto. Giù. Giù. Attenzione. Attenzione. Sono qui! Quanto dista, Bill. Ci siamo quasi. Dovremmo essere rapidi. Entriamo, prendiamo la batteria e usciamo. Non voglio rimanere intrappolato lì dentro. Ok, tutto chiaro. Vai stare корпalato. Ho. Apprrr Andrea. Ho. Ilancia di oggi. Oh Bloggiaccia. Non voglio rimanere la batteria. Mort нав formative. La torna. Ancora. Chi cavolo l'ha lasciato qui? Hai degli amici in zona? No Mandiamo lì Ok 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 Ehi, gioia! Sì! Dammi una mano con questo! Che ti dicevo? Ecco il camion. Esce dalla scuola, laggiù. Forza. Scappa! Fai limiti dal sequestro! Lasciala stare! Lasci. Ah! Ah! Oh! Oh! Edson! Ah! Ah! ... ... ... ... ... ... ... Uh! Corri Ali, corri! Corri Ali, corri! Non spediamo la fortuna. Come entriamo? Qualcuno ha lasciato una scala. Se mi aiuti a salire la spingo giù. Non farti ammazzare lassù. Grazie, Bill. Tutto bene. Dobbiamo solo arrivare al cofano del camion. Sono bloccate! Prendiamo la batteria e ci vediamo dalle palle. La parte è bloccata! Merda! Dai, andiamo! Merda! Non reggerà molto! Bill, fai in fretta! Aiutami! Dimmi che hai finito! È vuoto! Cosa? È vuoto, cazzo! Ragazzi! Dove andiamo? Bill, dove? Ovunque, ma non qui! Muoviamo il culo, forza! Non lo faccio, Luciano!